Io oggi voglio replicare tra virgolette le accuse che il signor Ricciardi ha fatto a me e al Comitato Mobasta. Quello che chiediamo noi cittadini, come l'abbiamo chiesto sempre, è la fine dei lavori. Di chi sia la colpa a noi cittadini non interessa, non mi frega se è del comune, se è della ditta, se è delle ferrovie. Noi vogliamo che il lavoro del sottopasso venga finito, venga ultimato. Il signor Ricciardi ha firmato un accordo con le ferrovie dello Stato che scade il 31 di marzo. Lui entro il 31 di marzo deve lasciare libera l'area. Questo è quello che mi è stato riferito anche dall'amministrazione comunale. Noi siamo a favore dell'occupazione, crediamo che questa azienda debba essere mantenuta e abbia tutto il dovere di essere mantenuta con tutto il personale che ha. Però non si può mettere davanti al muso, ai cittadini, il ricatto sull'occupazione. Noi non ci stiamo.